www.feyyaz.tv Io vado a lavorare, sto sola, ho due bambine, è difficile vivere senza un nuovo vicino. Questa è mia cognata, che c'è anche il marito delle nere. Quanti anni hai? 32 anni. Tu marito? Senga, ce l'appoggiare. Quanti anni hai? Un po' di più. Non c'è un po' di più. C'è la prima volta sotto qua c'era Gitte ma questo è quello che ha già fatto E' che sotto i carceri fanno perdere proprio la dignità No nemmeno mano per la mano non ci possiamo toccare proprio Stiamo a distanza no niente siamo parecchie persone non ci sente niente I figli nostri stanno vinti a metter perché cattini stanno buoni e malamenti Stanno chi li la hanno sbagliato e chi li la hanno sbagliato Perché a legge non la mette ignoranza però la città sta buoni La custodia dei vati sono pochi In un'altra cosa ci vanno vinti per su se lo parte trentacinque per su E' un'altra cosa Non lo so... E' un po' che sta bene Ma non ci fa facile da lavorare Ma i nostri video si stanno vinti a me Bisogna in mare Ma ti devi scuol Sono qui dove vedo quello che succedono? Fai a che ora succediamo ad andare! Ero credimo, siamo l'ha così. Sono un po' di nuovo! Certi, abbiamo fatto colpire! La scuola per la tua scuola! Grazie a tutti.